L'emergenza generata dalla diffusione del coronavirus ha colpito duramente e colto impreparati anche i paesi della regione del Medio Oriente Mediterraneo. Data la vastità e l'eterogeneità di questa regione, i diversi paesi si sono trovati a fronteggiare delle situazioni e delle circostanze assai diverse, ma in linea generale tutti i paesi si sono trovati piuttosto impreparati ad affrontare un'emergenza di tale portata. Innanzitutto per la mancanza o per la carenza di strutture sanitarie adeguate, ma non solo. Infatti il coronavirus non ha fatto altro che portare alla luce e far emergere delle criticità e delle fragilità già presenti da tempo nella regione del Medio Oriente Mediterraneo e delle criticità e delle fragilità che riguardano sia la sfera economica che quella politica che quella sociale. Di fatto ci sono paesi, come sappiamo, che sono in conflitto da lungo tempo, come lo Yemen, la Libia e la Siria, dove sicuramente l'emergenza sanitaria ha portato a complicare una situazione già piuttosto precaria e difficile e complicata. La frammentazione per esempio politica e la presenza di forze politiche differenziate ha per esempio negato ad alcune parti della popolazione o reso inaccessibile una parte della popolazione gli aiuti umanitari e anche le risorse e gli strumenti sanitari necessari per fronteggiare un'emergenza sanitaria. D'altro canto, per esempio, ci sono emerse delle grosse difficoltà legate alle misure draconiane che la maggior parte dei paesi hanno dovuto mettere in atto per arginare la diffusione del virus. I diversi, diverse misure di lockdown e di coprifuoco hanno infatti portato a una cessazione delle attività lavorative soprattutto in ambito informale e quindi molte delle persone e soprattutto i settori, gli strati meno ambienti della popolazione si sono trovati tutto a un tratto privi della loro fonte di reddito e incapaci di sopravvivere perché non provvisti delle risorse finanziarie necessarie. Quindi diciamo quello che adesso la regione del Medio Oriente Mediterraneo si accinge ad affrontare una crisi economica, sociale e politica di grande portata che dovrà essere gestita in maniera diciamo concertata e con delle politiche piuttosto mirate. Di fatto sarà molto importante anche cercare di stabilire e di promuovere una collaborazione tra i diversi paesi perché i problemi che affliggono alcuni dei paesi della regione del Medio Oriente Mediterraneo avranno necessariamente delle ripercussioni anche sui paesi europei, in particolare sui paesi europei del Mediterraneo. Fra i vari scenari che stanno cambiando sicuramente ci sono degli scenari economici legati anche alla crisi dei prezzi del petrolio che porteranno alla formazione di nuovi equilibri, alla formazione di nuove influenze nella regione e quindi si vedranno delle nuove evoluzioni. La crisi poi della mobilità e questa forzata staticità che costringe la maggior parte della popolazione a casa ha fatto sì anche che è entrato in crisi uno dei principali settori economici della regione, ovvero il turismo. In questo momento sarà veramente molto importante cercare di mettere in atto delle politiche e delle strategie di ripresa che tengano conto di una interconnessione e una interdipendenza di tutti i paesi della regione del Medio Oriente Mediterraneo. Quindi cercare di guardare ai problemi del vicino e cercare di trovare una soluzione ai problemi del proprio vicino sarà utile anche per trovare una soluzione per i propri singoli problemi. Sarà molto importante anche dare voce alle iniziative e alla creatività delle proposte della società civile. Ciao a tutti, mio nome è Berat Kamili. Sono originale da Norte Macedonia e vivendo in Turchia. Sono uno dei precedenti partecipanti del Medio Oriente Mediterraneo e Seminari. E qui oggi in Turchia, abbiamo anche avuto una Covid-19 outbreak. In realtà, ciò che facciamo è che durante i giorni, abbiamo partiali in un'occhiata. Quindi, siamo in casa, ma che ci sono in casa, ma che bisogna andare a lavorare, possono andare a lavorare. E durante i giorni, in un'occhiata, siamo in un'occhiata, quindi non possiamo andare in casa. E solo persone che lavorano in un'occhiata, possono andare a lavorare e fare loro. Ma siamo in casa, in un'occhiata, in un'occhiata. Molte thirds in Turchia in Turchia, che hanno operato online, possono servire loro, anche i altri, che possono andare a 보시i offrisci. L'incchiata è stato il giorno per l'agrazione. Credo che sia il giorno per l'intrazione. Siamo in un'occhiata, in cui si arrivano in un'occhiata. Alcchi, alcuni sono stagione. Alcchi, alcuni si siano pressioni organizzazioni personali. I'm one of the people who see this as a personal update and with my MIG port, which is my startup at first, before coronavirus, I was invited to go to Switzerland to get my award, which is Migration Entrepreneurship Prize of Foreign Ministry of Switzerland with CISSTARS, but because of the coronavirus I couldn't go there and I was a bit, let's say, down because, you know, like you get an award, you're invited to go other countries, but you couldn't. But then I didn't give up. And with MIG port, what we do is we are doing migration management, which is a crisis. And I said, let's do this time my crisis management. And I started Coronaton Turkey on an online hackathon, which brings students, entrepreneurs, communities together and enable them to find solutions to the problems of COVID-19. It was very successful. We fundraised over 120,000 U.S. dollars. We founded over 42 teams and we also helped them for the ethics. We helped the teams to find one-to-one meetings. And after coordinating Coronaton Turkey with European Commission, we coordinated EU virus hackathon, which is literally the biggest hackathon of the world. And then I was working at the project manager. And what we did is this time we did a hackathon, not only a specific to country or a region, but a hackathon which brought all the people from the earth and enabled them to team up and find solutions for COVID-19. So I see this as an update and I see this as an opportunity for us to update ourselves and treat the world better as we did before. Thanks. So I'll see you in the next video.